La memoria delle atrocità commesse nel periodo oscuro della Shoah serve ad interrogarci sulla natura umana, sulle conseguenze che possono scaturire dall'odio e dalla discriminazione, al fine di promuovere la formazione della coscienza, dell'uguaglianza degli esseri umani e dei diritti della persona, combattendo l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia attraverso l'educazione al rispetto della diversità e della dignità di ogni individuo. Sono le riflessioni del prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, in occasione della ricorrenza del giorno della memoria, che ha visto la partecipazione degli studenti del liceo classico Pietro Giannone di Benevento. L'intervento dei giovani attraverso la lettura dei brani tematici e la proiezione di brevi filmati ha rappresentato un profondo momento di riflessione sulle persecuzioni compiute ai danni degli ebrei nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Al termine della cerimonia è stata consegnata la medaglia d'onore ad Antonio Alberto Principe a titolo di risarcimento morale quale militare reduce dalla deportazione. Lebbiamo questa giornata perché è importante il ricordo, ma ricordo che non deve essere semplice esercizio retorico di mnemonico, ma un esercizio attuale, un esercizio nel quale i ragazzi devono comprendere quali sono stati i problemi e le cause che hanno portato poi all'olocausto. E cosa può dire ai giovani e alle nuove generazioni? Che è importante la storia, è importante studiare il passato perché, come diceva anche Gian Battista Vico, purtroppo spesso ci sono i corsi e ricorsi. Quindi il capire quello che è successo nel passato, il comprendere le cause di ciò che è successo è importante per evitare certe situazioni spiacevoli per il futuro.